Con questo, non so se un unico video, termina questa playlist su come creare video per YouTube, almeno per quanto riguarda strumenti commerciali, quindi non gratuiti. Sto valutando l'opportunità di fare un'estensione, prendendo in considerazione invece gli strumenti free, open source e simili. E l'argomento che tratterò è la preparazione di video, non di gameplay, ma istruttivi. E qui il termine istruttivo, didattico, dovete un po' intendere in senso lato, non solo i miei video sulla programmazione, linguaggio, C++ per intenderci. Ma tutte quelle situazioni in cui tu con il recorder ti registri mentre usi un software di qualsiasi tipo. Al limite anche una presentazione powerpoint, un argomento di fisica nucleare, che tu commenti insieme alle slide. Direi che la differenza tra i gameplay è che il gameplay, come avete visto, registro senza commento e l'audio, il commento, lo aggiungiamo dopo. Mentre per i video istruttivi, a mio parere, la modalità più naturale di procedere è quella di registrare il proprio commento in tempo reale mentre si sta usando il software. E già che ci siamo vi do un grosso consiglio, se volete scontato. Mentre chi ci ascolta con un gameplay tollera abbastanza bene anche un audio non perfetto, intendo quello della nostra voce, nel caso di video didattici è invece fondamentale, se volete farci al limite qualche soldino, un audio di qualità. Perciò con un timbro che risulta alla fine naturale, senza rumore di fondo, cose strane, insomma, una voce cavernosa come quella che di solito si registra usando il microfono incorporato nel video, voi del sistema desktop e anche quello portatile. Forse su un portatile risulta un pochino più naturale, ma lavorando con un microfono così volante alla scrivania, di solito si è troppo distanti e i rumori vengono anche un pochettino assorbiti insieme al vostro commento audio. Adesso vi faccio sentire un pezzettino di audio utilizzando proprio un altro mio microfono che è quello che ho incorporato nel monitor. Ecco, l'effetto è questo, è certamente una tra i migliori, direi che dopo un po' chi ci sta ascoltando lo riterrà veramente supportabile e chiuderà il video. Sconsiglio anche l'utilizzo dei cosiddetti modelli a gelato, cioè quelli che devi tenere in mano, come i cronisti che sono in giro per strada per le riprese tv. Il motivo è semplice, è difficile senza farsi venire i crampi tenere il microfono sempre alla stessa distanza. Inoltre, mentre si utilizza un software, dovrai pure utilizzare il mouse e qualche combinazione da tastiera. Per cui, già migliore è la soluzione di quei microfonini piccolini che ti puoi appendere con una piccola clip al colletto della camicia, in una narice, non lo so, però la soluzione migliore rimane il cosiddetto microfono ad archetto, cioè quello che indossi con una cuffia, al limite quei modelli che stanno intorno alle orecchie, insomma qualcosa che lasci lì sempre in quella posizione del microfono. Potendo, scegliete anche un modello espressamente progettato per il riconoscimento vocale, e non per intenderci quelli che si utilizzano per le sessioni di gioco online. I modelli per il riconoscimento vocale, infatti, sono di solito dotati di doppio microfono, in cui ce n'è uno principale che è quello che deve raccogliere la vostra voce, e uno secondario che intercetta e filtra i rumori di fondo. A questo indirizzo trovate una discreta guida, che suddivide i possibili prodotti in fascia entry, comunque direi accettabili, fascia media, e probabilmente io andrei a scegliere qui, e poi quelli per gli utenti avanzati, dove forse è eccessiva la spesa. Un altro fattore abbastanza importante a tenere presente è che conviene prendere dei modelli USB, perché hanno un carico minore sulla CPU, e inoltre sono già più predisposti a produrre in modo nativo un input digitalizzato. Detto questo, ho anche utilizzato modelli non USB, e sinceramente una grossissima differenza non l'ho colta, però c'è da dire che io ho sempre utilizzato macchine abbastanza carrozzate. E attenzione, alcuni modelli, dalle ottime caratteristiche, come quello che io sto usando, non sono stati progettati nativamente per l'utilizzo del PC, ma con altre apparecchiature di registrazione, e hanno degli attacchi molto molto particolari, per cui valutate sempre, anche per il costo, se sia necessario acquistare un adattatore per poi poterlo sfruttare sul vostro PC. Giusto per farci un'idea, ho aperto la sezione di quelli nella fascia media, mid-level. Questi prodotti da Andrea sono spesso inclusi, ad esempio, insieme al software di riconoscimento vocale Dragon Naturally Speaking. Non sempre, ma sono tra quelli che si ritrovano più frequentemente, almeno una volta. Mi piacciono molto questi modelli, infatti a lungo ho utilizzato proprio quello che ho trovato nella confezione del Dragon Naturally Speaking, perché è leggerissimo, è soltanto un fil di ferro con un microfonino. Infatti non mi interessa, non ci interessa avere anche la cuffia per sentire l'audio. Se lo scopo è quello semplicemente di parlare, poi dopo ti ascolti chiaramente nelle casse del computer. E dovendo fare eventualmente lunghe sessioni, il peso conta, è come per la comodità, per l'ergonomia. Sono comunque anche accettabilissimi quelli, in inglese mi viene, non viene in italiano, mono-aureal, cioè con una sola cuffia, come questo, per intemperci. Il prezzo, beh, non sono bruscolini, ma neanche inavvicinabile. Potreste tranquillamente iniziare con uno di quelli entry-level, spendendo una cifra nettamente più contenuta. Tenete anche conto che qua si tratta di valori in dollari, può essere, se non fanno lo scherzetto, di pareggiare euro-dollaro, che il prezzo finale sia poi in proporzione al tasso di cambio che è favorevole all'euro. Quindi invece di spendere questi 24 dollari, 25 dollari, magari diventano 20 euro, 17 euro. E così, iniziando con una spesa quasi irrisoria, se poi qualche cosina entra monetizzando i video su YouTube, potreste fare il gran passo e acquistare uno dei modelli superiori. Per curiosità, questo è il mio modello, non so neppure se sia ancora in commercio, mi sembra di averlo pagato anche più di 100 euro. All'attacco particolare, vedete, quindi qui è necessario prevedere anche l'esborso per l'adattatore. È un po' strano, si aggancia direttamente all'orecchio, sinceramente la prima mezz'ora ho detto, oddio, ho buttato via i soldi. Poi per fortuna mi sono abituato, ci mettevo 5 minuti solo a cercare di piazzare l'ammenicolo intorno all'orecchio, e poi però, in effetti, alla prova dei fatti, si sta rivelando, e ormai è almeno un paio d'anni che ce l'ho, un ottimo microfono. Oltre alla qualità, l'ovvio vantaggio di questo modello è l'estrema leggerezza, essendo ridotto proprio l'osso, quasi solo il microfono in sé. E sì, naturalmente esistono anche delle versioni wireless, bluetooth per lo più. Chiudo il video comunque con una raccomandazione. Qua ci tenevo a vedere un po' il meglio di quello che si può utilizzare, ma fatela qualche prova prima, semplicemente col microfono che avete, perché potreste scoprire che poi è comunque accettabile per i vostri standard.